Andiamo a cento l'ora trasportata dentro il vento, ye 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 Partenza il 26 dicembre scorso, destinazione Argentina, o meglio Patagonia. Ritorno il 4 febbraio dopo oltre 1300 km in bicicletta. Stefania Valsecchi ci ha abituato a imprese in giro per il mondo, ma questa volta la sfida è partita dalla sua compagna di viaggio e la steppo, così come è chiamata dai lecchesi, non si è di certo tirata indietro. È stata un'avventura, proprio direi nel vero senso della parola, perché eravamo da sole, io e Lola, Eleonora del Nevo, Bergamasca di Albino, e siamo partite io e lei, lei con la sua handbike, perché purtroppo per un incidente in montagna è paralizzata dalla vita in giù, e io con la mia bicicletta, borse, sacco a pelo, tenda, forno in letto, pentolini. Partenza da El Chalten, che è per noi lecchesi una, come direi, evocativa del Serro Torre, conquistato dai ragni di Lecco, evocativa anche per Lola del Nevo, perché Lola è un ragno di Lecco. Quindi la scelta era comunque sua, questo viaggio è un viaggio deciso e voluto da lei, e allora un altro ragno, famosissimo per Lecco, Mario Conti, detto Zenin, ci ha fatto incontrare, perché secondo Mariolino diceva, beh, penso che solo la Steppo ti può portare là a fare questa cosa. È stato un bell'incontro, senza dubbio, da tutti i punti di vista, è stato un viaggio impegnativo nel vento della Patagonia e nell'inospitalità geomorfologica della Patagonia, devo dire che è stata una pedalata davvero impegnativa, soprattutto per Lola, chiaramente. Però l'inospitalità è solo della terra e del vento, perché le persone sono fantastiche, veramente di un'accoglienza strepitosa. C'è stato tempo però anche per portare un po' della tua professione oltre confine. Siamo riusciti a connetterci in diretta con le mie due classi, la quarta e la quinta della scuola Enrico Totti di Maggianico e ringrazio le mie colleghe che organizzavano tutto come veramente fosse una trasmissione televisiva. Ringrazio i bambini che sono stati i miei primi sostenitori, le mamme e ringrazio anche il dirigente scolastico che mi ha dato l'opportunità di poter fare questo viaggio che mi ha tenuto via da scuola un po' di giorni, ma la scuola l'abbiamo fatta a distanza. E alla fine Ushuaia ha sventolato la bandiera di Lecco. Sì, il gonfalone di Lecco viaggia sempre con me e poi lo sventolo entusiasta, contentissima quando arriva a destinazione. Siamo arrivati! Ushuaia! Dai c'è te! Lecco sempre con me nel cuore!